Siamo qui con Margherita, una delle blogger invitata al My Active Blog Tour. Allora, la giornata ieri è stata particolare. Che cosa avete fatto, che impressioni hai avuto e cosa ti aspetti dalla giornata di oggi? Beh, ieri è stata una giornata bella piena, diciamo, perché noi siamo arrivati tra i primi, verso le due da Milano, e abbiamo fatto una passeggiata per la Valletta di Santa Lucia, e poi siamo andati a trovare il signor Lorenzo, se non mi sbaglio, di Home Cafe, che ci ha spiegato tutto quello che c'è da sapere sul caffè, ci ha fatto una lezione bella, bella, consistente. E poi siamo andati a cena al Forte, che se non mi sbaglio si chiama il Forte Alto, e anche quella lì, devo dire, è stata una cena veramente indimenticabile, perché ci sono stati proprio un sacco di prodotti tipici, proprio tutto fatto in casa, e quindi è stata una bella giornata, sia dal punto di vista enogastronomico, sia dal punto di vista delle attività. E niente, oggi invece andiamo lassù, dove c'è la croce, ci han detto, e poi a fare il giro in mountain bike. Per me questo non è un problema, perché noi siamo gente di montagna, quindi, diciamo, siamo abbastanza abituati. Stranamente sono più preoccupata della mountain bike, perché sono un po', diciamo, non sono bravissima. L'idea di questi blog tour, secondo te, è un'idea da portare avanti, su cui puntare, che ha delle potenzialità? Beh sì, secondo me, diciamo, dal punto di vista dei blog tour, vorrà avere qualcuno qua, diciamo, a livello indipendente, che fa un'attività in prima persona e poi ne parla. E diciamo, noi ci sentiamo comunque, ovvio, siamo stati invitati qua, quindi ci fanno provare un sacco di belle attività, però comunque ci sentiamo sempre di, la nostra prima cosa è essere onesti con i nostri lettori. Quindi se c'è qualche problema, noi lo diciamo, nel senso, se c'è qualcosa che non ci piace, noi lo diciamo, non facciamo finta che ci piaccia. Che in questo caso non abbiamo un editore o qualcuno a cui, diciamo, rendere conto. Abbiamo da rendere conto solo a noi stessi, alla nostra coscienza, ai nostri lettori. Quindi per quello, secondo me, sì. Tante persone che vi seguono attraverso i social network, Twitter, Facebook, riesce a quantificare questa mole di persone che vi segue? Ma allora, diciamo che per i social network è facile, perché ci sono i numeri dei followers, però ovvio, magari la stessa persona ti segue su diversi social network, quindi quello, è difficile dire chi mi segue solo su Facebook, chi mi segue solo su Twitter. Comunque, se mettiamo insieme tutti i social network, noi abbiamo circa 13.000 followers e invece a livello di visite su sito ne abbiamo circa 15.000 al mese, al momento. Quindi sì, diciamo, speriamo che legano tutti i nostri articoli e che non guardino solo le foto, diciamo.